Gentili telespettatori, ben ritrovati con il Tg della Comunità della Vallagarina. Per questa settimana vi presentiamo un progetto che è stato molto, molto apprezzato lo scorso anno. Si tratta di giovani all'opera. Cosa sono? Sono dei ragazzi giovanissimi, studenti dai 16 ai 19 anni, che nel corso dell'estate possono fare dei tirocini pagati in alcune aziende private o enti pubblici. Lo scorso anno con questo progetto hanno lavorato 98 giovani, quest'anno i ragazzi saranno 180. Noi crediamo molto a questo progetto giovani all'opera 2014 come seconda edizione, perché riteniamo che per i ragazzi di quell'età sia fondamentale un'esperienza di vita in contatto con il mondo del lavoro per, innanzitutto, capire quali sono le proprie predisposizioni, le proprie scelte di vita lavorativa e nel contempo far sì che le aziende e la scuola possano dialogare per creare un'effettiva alternanza scuola-lavoro, che è un'esigenza fondamentale per la crescita delle persone e la competitività delle nostre aziende e dei nostri territori. Quest'anno rinnoviamo il progetto dell'anno scorso dei giovani studenti all'opera della Valla Garina. È un progetto che rinnoviamo e rafforziamo proprio perché è stata una buona esperienza e poi abbiamo la conferma anche a livello europeo dell'importanza di fare esperienze lavorative ai giovani già durante la scuola. Un problema proprio che abbiamo in tutti i paesi mediterranei è questa separazione netta tra la vita scolastica e la vita lavorativa. In realtà il lavoro è un valore ed è un valore che deve essere appreso dai ragazzi anche quando sono ancora a scuola, a 16-17 anni. Quindi questa è un'esperienza importante per loro come persone, come futuri professionisti e è un'esperienza che li aiuterà ad entrare nel mondo del lavoro più agevolmente e più preparati. Il progetto Giovani all'opera 2014, siamo appunto alla seconda edizione del progetto, ha coinvolto tutti i comuni della Valla Garina, i piani giovani, i cinque piani giovani della Valla Garina, l'Agenzia del Lavoro e la Comunità di Valle. La fascia d'età di questi ragazzi e il tirocinio sarà pagato? Allora, la fascia d'età sono ragazzi che hanno dai 16 ai 19 anni e il tirocinio è praticamente retribuito con 70 euro la settimana a conclusione appunto dell'esperienza. Ci sono sia enti pubblici che aziende private che si sono rese disponibili? Sì, allora anche quest'anno come appunto l'anno scorso, proprio per favorire la socializzazione al lavoro e l'orientamento professionale, sono state individuate le amministrazioni pubbliche, quindi in modo particolare i comuni, le case di riposo appunto presenti sul territorio e le aziende private in diversi settori che vanno dal commercio, l'artigianato, il commercio e in modo particolare anche il sociale. L'anno scorso quasi 300 domande per 98 posti di tirocinio, quest'anno sono 180 le possibilità di tirocinio, però avete messo dei criteri perché ci saranno più domande. Sì, appunto i criteri che abbiamo appunto individuato sono innanzitutto la residenza in uno dei comuni della Vallagarina, un altro criterio è appunto l'età anagrafica, quindi si darà priorità alla maturità del ragazzo e poi non aver partecipato l'anno scorso a esperienze di tirocinio, in modo particolare al progetto Giovanni all'Opera della precedente edizione. Se un ragazzo vuole iscriversi come deve fare? Qual è la procedura? Allora già nei vari siti della comunità di Valle, dei comuni e dell'agenzia del lavoro compare già una nota informativa e una locandina. Nei prossimi giorni metteremo anche il modulo di candidatura che il ragazzo appunto dovrà compilare e nella settimana dal 17 al 22 marzo dovrà inviare alla PEC della comunità di Valle la propria candidatura e le selezioni avverranno dal 17 aprile alla fine di maggio. Egon Angeli del piano Giovanni della destra dice il ruolo di questi tavoli dei giovani. Allora, nel progetto nello specifico i tavoli hanno avuto un ruolo inizialmente propositivo, nel senso che avvicinandoci alle politiche giovanili e anche alle politiche del lavoro ci siamo interrogati su come potevamo essere protagonisti e come potevamo anche noi metterci un tassello in realtà in una realtà che è molto complicata e già ha molti attori che ne prendono parte. E abbiamo cominciato con dei piccoli progetti. In realtà poi facendo rete, mettendoci assieme con i piani giovani di tutta la comunità di Valle, i 5 piani giovani, quindi 16 comuni che ne fanno parte, la comunità della Vallagarina, agenzia del lavoro, istituti superiori, privati del territorio che ci hanno supportato, siamo riusciti a costruire questo progetto che ha due obiettivi in realtà, non solo quello del lavoro, che è quasi visto come un mezzo, ma soprattutto quello della cittadinanza attiva, che si coniuga soprattutto con le nostre politiche che tutti i giorni cerchiamo di svolgere con i progetti del tavolo. Grazie a tutti!